Grazie 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 Perché Pensate Siamo partiti Al massimo Se ci diceva Pensavamo di fare 4 in t Siamo quasi a 70 concerti 70 concerti Ed è stata un anno Una stagione musicale incredibile E adesso volvi al termine Perché rimangono ancora cose Poi ci aspettiamo Però è stata una stagione paziente Con le popiche per Calino E anche con Un'intervenzione con sé A 12 dicembre Questo spettacolo si è fermato Si è fermato Per un motivo A volte sapete che spettacolo si fermano Si fermano quando In tant'ante Non ce la fa proprio Si fermano quando 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 E io ho queste ragioni Proprio passando questo vecchio Avevamo messo tutto in conto Ma quella per la quale Per la prima volta Sono 25 anni che faccio il concerto Che sono fermato Non l'avevo veramente calcolato Però la vita è Andando avanti un po' con gli anni Fa un po' questo Che succede Che succede proprio quello Quello che non avremmo mai pensato Allora il 12 dicembre Noi presentavamo Tutta questa cosa Un sacco di lavoratori Anche che nel senso di forzo Un incidente ha lasciato Per terra Alcuni nostri ragazzi Che sono rimasti feriti E addirittura Un ragazzo che ha 19 anni Che è morto Che si chiamava Che lavorava con noi Che lavorava con noi In quello che c'era E allora dopo Quando abbiamo riuscito a suonare Quando abbiamo riuscito a suonare Un accordo con tutti Ogni sera si ferma sopra Ogni sera si ferma sopra Ogni sera si ferma sopra Perché io a 19 anni Proprio avevo Era l'età in cui io ho cominciato A fare il mister A fare il professore Quindi avevo tutto da un altro E quindi sopra 10-19 anni Quando una cosa inizia 10-19 anni Io non me la riesco proprio a A spiegare Devo ricorrere magari a A inizio Inizio a A dare un messaggio Alla fine del posto Ma non so se non Se non possiamo fare qualcosa Perché noi siamo quelli lì Siamo quelli Siamo quelli Siamo quelli che restano E quindi possiamo fare qualcosa Dobbiamo fare qualcosa Rimontare in cielo E cercare di essere ancora più Brava se è possibile Crederci ancora di più Proprio perché Queste cose ci dimostrano Quanto la vita No? Che questa cosa così grande È anche la cosa più fragile Che c'è E allora Cercheremo di fare ancora meglio Cercheremo di E di fare anche la nostra parte Perché non ci siano più Incidenti sul lavoro In questo paese E ci sono sempre troppi E faremo la nostra parte Aumenteremo ancora di più E la sicurezza Che sono tantissimi Voi mi dovete credere Questi campieri Che portiamo ogni giorno Hanno delle leggi molto rigide E noi le cerchiamo sempre Di rispettarli Le rispettiamo tutti Ma di imponderabile Purtroppo questa volta Ci ha fregato E allora questo Sto tentando di fare In questi concetti Dire, raccontare Questa storia Che siamo qui adesso E che dobbiamo cercare di Io perlomeno Non voglio Io non sono un predicatore Io penso sempre Solamente di fare Di dare consiglia a me stesso E attraverso questo Magari di cui voglio L'emozione degli altri Ma di starci dentro Questo è il nostro tempo Non ne abbiamo Questo è il nostro tempo Questi sono i nostri giorni Questo è il nostro tempo E non è Non avviene Chissà quando Non avviene Chissà dove Avviene qui E avviene proprio Poi